ok giorgi fermati il portale guarda non vedo niente non vi ho riferito non vedo niente guarda perdoni tu sei buon mi vuole ti vuoi che vuoi non ce l'ha non BUT non but non but non so non so non so non but non so come Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!